Nelle prime 24 ore assolutamente non c'è bisogno di rivolgersi a nessuno. Una mamma, un genitore, un fratello, un coniuge sanno cosa debbano fare. Certamente se la febbre persiste e soprattutto si arriva a picchi abbastanza alti, che sovrano i 38 e mezzo, si avvicinano i 39, allora è chiaro che a quel punto bisogna rivolgersi o al medico di medicina generale, al medico cosiddetto di famiglia, di fiducia o al pediatra di libera scelta nel caso ovviamente dei bambini. L'unico problema che si è visto come complicanza emerge dall'influenza è quella delle eventuali complicazioni bronchiali polmonari. Quindi quello che deve fare il medico di medicina generale in seconda o in terza giornata è visitare attentamente il paziente, soprattutto a livello bronchiale, e quindi valutare se vi è un impegno bronchiale o meno. Ma l'influenza si chiama influenza perché è una comune e banale influenza che in genere dopo tre giorni automaticamente, non dico da sola, la ripeto, associando dei blandi antipiretici, insomma tendenzialmente la terza giornata tende a scomparire. Si è visto che questa influenza ha meno complicanze dell'influenza normale. Cioè che cosa vuol dire? Vuol dire che muoiono molte più persone ogni anno in Italia con l'influenza stagionale che sicuramente quante ne potranno morire con l'influenza A. Se vi sono anziani che sono particolarmente debilitati o bambini particolarmente piccoli è meglio non tenerli in contatto con il malato ma tenerli in altre stanze e arieggiare il più possibile la stanza, ovviamente facendo spostare il malato per pochi minuti, 4-5 minuti in un'altra stanza. Anche il falso problema della mascherina è praticamente inutile. Io ritengo che sia inutile perché vedo addirittura persone in metropolitana o sui pullman che vanno in giro con queste mascherine che sono quasi al limite del surreale. Abbiamo fatto delle linee guida che abbiamo già pubblicato sul bollettino dell'Ordine. Noi come Ordine dei Medici pubblichiamo praticamente mensilmente un bollettino dove in questo numero ci sono tutte le indicazioni affinché si prosegua quel tipo di percorso e non un altro.